bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite ieri mattina abbiamo avuto la patch 12.50 e ci ha portato veramente una ventata di aria fresca i leak addirittura e i teaser per la season 3 ma anche una nuova modalità e anche tante tantissime cose di cui vi voglio parlare per guadagnare un regalo nuovamente che ci vogliono fare non è niente di difficile voglio subito però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video news di ogni giorno ma quindi andiamo subito prepotentemente dentro il video di oggi e voglio farvi vedere un email che è arrivata a tutti quelli che hanno il codice creator che dice sappiamo che una parte dei tuoi contenuti dedicata alla presentazione delle novità del gioco al pubblico per aiutarti per essere più efficiente da questo punto di vista vogliamo condividere con te alcune informazioni importanti allora parti reale puro relax senza stress e attenzione partirei a royal è uno spazio nuovo sperimentale e in continua evoluzione lasciati armi e materiale alle spalle abbiamo bisogno abbiamo in programma di effettuare qualche test questo venerdì alle ore 9 est quindi fate un controllo io non ricordo se sia corretto il fuso orario scrivete su google 9 est in italia in modo che riuscite a vedere qual è l'orario corretto date orare sono soggetti a cambiamenti la festa è appena cominciata e poi ci raccontano appunto la nuova ltm operazione carico hanno tolto purtroppo knockout sia in duo che in squad ma hanno mantenuto la possibilità di progredire nei potenziamenti con la nuova ltm carico come funziona molto semplice c'è un furgone proprio fisicamente due squadre da otto giocatori una volta si difende e una volta si attacca quando si deve attaccare tutti i giocatori stanno vicino al furgone più giocatori ci sono vicino più il furgone va avanti se nel raggio del furgone entrano i giocatori dell'altra squadra il furgone si ferma avete due minuti e mezzo per portarlo a destinazione quando invece giocate in difesa dovete ovviamente difendere ma ci sono anche delle altre modifiche importanti tra cui line assist nerfato per tutti i giocatori cosa vuol dire che chiunque utilizza un e parliamo noi di pc per chiunque utilizza un monitor a 240 hertz o probabilmente anche a 144 vale il discorso line assist sarà uguale come se si stesse usando un 60 hertz che cosa vuol dire vuol dire che si farà leggermente più fatica a prendere la mira quindi cercano di bilanciare nel migliore dei modi anche se io continuo a dire che la soluzione più semplice sarebbe un matchmaking personalizzato per chi gioca da mk e per chi gioca da pad sul matchmaking del computer però staremo a vedere e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ve l'avevo già mostrata nel video di ieri mattina ma ne voglio parlare in maniera più approfondita perché è molto importante questa mappa farà parte della nuova modalità papaya attenzione la modalità papaya è chiamata così nei file di gioco la modalità corretta è party royal quella che vi ho accennato poco fa la cosa molto bella di questa modalità e che sarà davvero divertente e sembrerebbe che non si dovrà sparare finalmente o se si spara avremo delle armi molto divertenti quindi niente di sparo costruisco ammazzo prendo guardo mi prendono mi sparano mi scelta no molto più take it easy e come vedete ragazzi anche la mappa è diversa è una mini mappa dedicata con un sacco di punti di interesse li vedete ilia insomma con i cerchietti questi punti di interesse sono delle attività appunto che si potranno fare io prevedo un sacco di divertimento abbiamo anche comunque delle immagini oltre a quella mappa che sono proprio relative alla alla nuova ltm next event sarà un flyer per indicare appunto l'arrivo quella lì centrale è in realtà una schermata di caricamento che probabilmente potrebbe essere uno dei regali giocando ai mini games interni e castors cabinet of curiosity invece è di nuovo un flyer potrebbe essere un altro mini game interno ora io non so se quei vbucks lì che il castor ha in mano ci vengano dati la vedo molto dura però staremo a vedere non appena si avranno delle informazioni aggiuntive alcune le abbiamo ragazzi questa è proprio la descrizione in inglese dell'ltm race around obstacles course by land or si ve la dico già in italiano corri intorno alla pista ad ostacoli tra la terra e il mare perfeziona il tuo skydive vai a pescare con i tuoi amici e molto molto altro il party sta per iniziare state for update sun e mi raccomando perché quando inizierà la premiere di questa modalità ovviamente ve lo so ve lo farò sapere sia con un video su youtube sia con un posto su instagram quindi mi raccomando iscrivetevi sempre ai canali ne parlerò su twitch ovviamente si otterrà anche un premio prima di farvelo vedere comunque vi faccio vedere un elenco delle location che troveremo la bot race 1 e 2 quindi una corsa con le barche un glider drop quindi un percorso con il deltaplano il main stage una corsa ad ostacoli un race center perché tornerà anche il quad ma ahimè ragazzi tornerà solamente in questa modalità purtroppo sfumano le possibilità di vederlo nella lobby nelle nelle mappe della singola della duo o delle squad ci sarà un giant skeleton mountain peak un fishing pond un sacred beach beach insomma tante tante location e anche appunto un quad crusher motocross quindi una pista per quad fisticuno cactus addirittura si parla del cactus bernard insomma veramente un bel circo di roba da fare molto molto divertente troveremo anche degli oggetti ovviamente in questa modalità le palloni d'acqua le barche il paint launcher che non è altro che un lanciagranate rivisitato che però al posto che sparare granate spara vernice il burger grenade quindi lanceranno hamburger e il fishing pole il crash pad addirittura il cioppa la boogie bomb tanta tanta roba ragazzi queste sono alcune immagini insomma delle cose che potremmo trovare come vedete burger e tomato li abbiamo già visti il planker bov quindi un arco che lancia in realtà gli stura lavandini e lì il purple paint launcher e l'orange paint launcher insomma la versione epica e leggendaria di questo spara vernice quello che a noi interessa ragazzi in realtà è leggere proprio la in basso so great party royals premiere with music reactive neon wings back bling celebriamo la premiere della modalità party royale con un backpack che verrà dato gratuitamente in regalo a tutti e che sarà reattivo alla musica il backpack in questione ragazzi è proprio questo neon wings le ali al neon e sono veramente meravigliose ho avuto la fortuna di vederle in un'immagine di un leakers che poi mi sono perso un po in giro davvero tanta tanta roba e quindi ringraziamo ep games per un nuovo regalo queste saranno delle altre emot che si pensava arrivassero nello shop ma in realtà o arriveranno con un unico pacchetto oppure saranno disponibili nella modalità ancora non si è capito perché sono 11 emot non comuni da 200 sono più emot comunicative insomma per cercare di sorpassare i limiti qualora giochiamo con un compagno di squadra che non ha il microfono tanta tanta roba e prima di salutarvi ragazzi molto rapidamente una nuova immagine di cui vi avevo già parlato comunque nel video di ieri i primi teaser della season 3 arriveranno per la prima volta molto probabilmente al lago languido e saranno tre poster che lasceranno ad indicare che nella prossima season l'acqua la farà da padrone ma prima di dilungarmi troppo con questi poster voglio andarci piano quindi non appena ci saranno delle nuove informazioni le saprò e ve le dirò anche a voi vi lascio insomma guardarli un pochettino vi ringrazio per avere guardato invece questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao